Buongiorno a tutti, spero state bene. Iniziamo con la classe numero quattro. Benvenuti nuovi membri alla classe numero quattro. Oggi impareremo cos'è l'energia e cos'è la fototerapia. I scienziati definiscono l'energia come la nostra abilità di eseguire un lavoro o di fare attività. Quindi più invecchiamo, più la nostra abilità di generare energia è ridotta. Più riduce l'abilità di generare energia, più riduce la capacità dei nostri organi e quindi i nostri organi degenerano. Quindi come riparare la funzionalità degli organi interni per migliorare l'energia a livello cellulare? Come quantifichiamo l'energia? L'energia viene quantificata a seconda della frequenza. Più la frequenza è alta, più l'energia cresce. Oggi si parla nel mercato del wellness o del benessere di tanti prodotti a base energetica. Ci sono prodotti terahertz, ad esempio. Poi ci sono ad esempio i prodotti all'infrarosso, come materassi in questo spettro di frequenza. Frequenze radio, frequenze a microonde, infrarosso, ultravioletti, raggi X, gamma. Sono tutte forme di energia. Però nel mercato del benessere si parla solo di terahertz, infrarosso, spettro visibile e ultravioletti. Ad esempio, coi raggi ultravioletti si possono uccidere i germi. Quindi parliamo solo di questa area, questo spettro di luminosità, di frequenze. Perché la LifeWave dunque si specializza solo nello spettro visibile della luce? Adesso ve lo spiego. È perché lo spettro di luce visibile, queste frequenze rappresentano il linguaggio del corpo umano. Che cos'è la fototerapia? La fototerapia significa qualsiasi frequenza di luce nello spettro visibile della luce che viene utilizzato a scopi terapeutici. Questa è la fototerapia. Ad esempio, quando si parla del distretto di luci rossi, perché sono luci rossi? Perché non è una luce blu o verde o altro colore? Perché la frequenza del colore, le frequenze del colore rosso causano un aumento dell'adrenalina, quindi dell'eccitamento. Invece quando si va in ospedale, spesso le mura sono bianche o soprattutto blu. Perché il blu? Quando guardi l'oceano blu o il mare o un lago, ti rilassa, vero? È perché riduce gli uomini dello stress il colore blu. O quando si è giovani, in tante famiglie viene detto guarda il colore verde se vuoi evitare di portare gli occhiali. Perché ad esempio? Perché non è giallo o altri colori? Il colore verde aiuta a regolare la funzionalità degli organi. Quando si va in un centro estetico invece e si vuol fare un trattamento di chiarigione della pelle, potrebbero suggerire i led gialli. Perché il colore giallo, la frequenza del colore giallo, aiuta il corpo ad aumentare gli antiossidanti. Capite quindi che se riusciamo a trovare le frequenze specifiche nello spettro visibile, questo può causare una reazione chimica nel corpo molto molto terapeutica. Mentre invece infrarossi, raggi gamma e ultravioletti non hanno questi effetti sul corpo. Ecco come mai? Ecco per il perché della life wave che si concentra su questi colori. Allora, se il rosso aiuta la vitalità, il blu il rilassamento, il verde regola la funzionalità degli organi e il giallo accresce gli antiossidanti, mettiamo adesso a confronto, mettiamo accanto i prodotti della life wave. Quali sono i prodotti per migliorare l'energia? Energy Enhancer, rosso. Eon, blu per rilassamento. SP6, verde per regolare la funzionalità degli organi. Ad esempio, parlando del SP6, se vedete negli studi clinici, guardate il color blu è la funzionalità di base, di partenza degli organi. Guardate adesso i numeri in verde, vedete che sono tutti positivi, cioè questo dimostra che l'SP6 aiuta gli organi a regolarsi e a migliorare. Semplicemente detto, gli organi migliorano di salute. E quando parliamo degli antiossidanti, in life wave c'è il color giallo, in life wave abbiamo il glutatione. Se dunque abbiamo questi differenti colori nello spettro visibile della frequenza per gli esseri umani, riesco anche a trovare una frequenza che può aumentare o migliorare le cellule staminali, ed è esattamente quello che viene fatto dall'X39. Però ovviamente è un segreto la frequenza esatta che la life wave utilizza per riattivare le cellule staminali. Qualsiasi cosa, qualsiasi proclamazione medica che viene fatta dalla life wave, ci sono più di 80 studi scientifici e più di 130 brevetti globali che formano la base del lavoro della life wave ed è in continua espansione. Potete cercare ad esempio sul sito web dell'ufficio brevetti statunitense USPTO e trovare gli articoli e i sommari di questi studi e brevetti. Ad esempio questo sommario parla di qualcosa per la fototerapia che attiva le cellule staminali tramite un non transdermal container, cioè un qualcosa che non entra nella pelle, non entra nel corpo. Tanta gente dice, ma se hai tanti brevetti non è che significa che il prodotto funziona bene, vero? Uno può semplicemente brevettare qualsiasi cosa un po' diversa e vantarsi di questi brevetti, giusto? Però non funziona così. Se uno guarda i criteri per ottenere i brevetti sono molto specifici. Prima di tutto, l'invenzione deve avere un elemento di novità. Quindi non deve già esistere nel suo campo specifico tecnico. Secondo aspetto, l'invenzione non deve essere facilmente deducibile da una persona che ha una capacità ordinaria in quel campo tecnico. Terzo punto, molto importante. L'invenzione deve essere utilizzabile su scala industriale o applicazione industriale, cioè deve avere un effetto dimostrabile ed essere utile. Cioè uno non è che può fare un cerotto, farlo assomigliare a quello della light wave e brevettarlo. Non sarebbe possibile. I brevetti quindi sono una dimostrazione molto chiara che i prodotti della light wave sono fondati, basati nella scienza e hanno risultati chiari ed applicabili. Nel prossimo video parleremo finalmente delle cellule staminali. Grazie per aver guardato questo video. Spero vi sia stato utile e sia stato interessante. Siete pronti per finalmente parlare delle cellule staminali? Ci siamo! Fatemi sapere che avete visto questo video e vi mando al prossimo. Grazie per aver guardato il video.